per non non pensiamo a chiacchia andiamo subito ok ragazzi ci siamo ci siamo siamo nella lobby ciao 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 perfetto allora, dove andiamo? io direi il biscotto l'unico è limitabile ok ci può così così, 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 così così, così così, così sbagliato, sbagliato il tuo video deve essere family friendly l'unico e anche anche dietro se il successo missione riuscita alla grande buona vita questa è una cosa questa è una cosa questa è una cosa che aspetta uno, uno dove sei? dove sei patronics? aspetti quanto? quanto ci mette? ho chiamato ho chiamato i ragazzi sui co di caccia però non importa non importa non importa ecco, ciao ok andiamo a biscotto andiamo a biscotto, andiamo a mangiare queste casette belle belle tranquille tranquille ma tranquille non sono appunto un po a lungo tutti i miei clienti che si è tornato in un anno c'è il marzo e io sono fortissimo sono la persona più forte del mondo una che fa una che fa non è una cosa che mi chiedevo di cercare e vabbè ragazzi non vuoi dire non così ho fatto quel tecarche 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 botte ma buonanotte bohman poi il video 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 video